Allora, a novembre del 2022 è uscito il mio ultimo romanzo, L'esattore, pubblicato da Brea Edizioni, ecco la copertina, cioè ecco il libro, e ho sul canale questa piccola rubrica che aggiorno raramente pubblicità per me stesso e aggiungo un ulteriore video perché vorrei parlare un po' di questo libro e appunto farmi un po' di pubblicità, come dice il nome stesso della rubrica rubato al vecchio Norman Mailer. L'esattore è un noir, è il mio terzo romanzo da solista, altri tre ne ho scritti a quattro mani con Germano Tarricone e chi fosse poi incuriosito, interessato, parlo di questi libri appunto nella playlist pubblicità per me stesso. L'esattore, dicevamo, è ancora un noir, è ambientato a Ravenna perché così mi piace raccontare le storie nella provincia, nella profonda provincia, che comunque conosco perché poi io sono di Rimini ma ho anche vissuto a Ravenna e c'è anche l'ambiente diciamo portuale di Ravenna che io trovo molto affascinante, mi richiama alla mente senza adesso tuonare bestemmie, però richiama alla mente no in fondo tanto cinema, è anche la miglior serialità televisiva, pensate alla seconda stagione di The Wire. Il protagonista di questo romanzo è un romeno di seconda generazione, si chiama Adam Petrescu, è un ragazzo molto giovane, ha lavorato al porto di Ravenna dove poi ha intessuto le sue amicizie criminali, fa il buttafuori come lavoro ufficialmente, tenta anche di laurearsi suscitando le risate dei compagni di crimine perché poi il grosso dei suoi guadagni viene dal lavoro di esattore per un clan di Strozzini che fa capo a padre e figlio Amilcare Pantera e il figlio Sergio Pantera. Il suo sforzo è quello di emanciparsi dalla vita criminale zavorrato in questo senso dalla presenza di un padre che già prima di lui era esattore per i Pantera e che adesso versa in condizioni disperate, lui lo cura a casa e riduce da un ictus suo padre e l'infermiera che si prende cura di lui è una giovane ragazza egiziana di nome Zacchia, una vicina di casa innamorata di Adam e peraltro Adam tende a ricambiare, se non che poi i giochi si complicano perché compare un personaggio femminile di nome Aida, quella che nelle mie intenzioni ricalca lo stereotipo della fan fatale, se vorriamo aggiornato ai tempi e al quale io ho inserito anche un piccolo e criptato omaggio a Satanic, come lei anche Aida ha i capelli rossi e come lei è propensa alla dominazione del maschio, anzi è una mistress a tutti gli effetti proprio prodom e il suo marito che è un avvocato molto in vista a Ravenna ha dei debiti con il clan dei Pantera e da qui c'è la stura un po' per una storia che io secondo quanto mi piace leggere ho massicciamente infiltrato di violenza e sesso. Se permettete vi leggo una pagina e poi vi lascio in pace, questa pagina ve la contestualizzo, Adam sta svolgendo il suo lavoro di buttafuori al Nightshade che tra l'altro è un locale che compariva anche nel mio precedente romanzo Giorni Feriali e che aveva parte, anche quello parte dell'ambientazione ravennate e qui incontra Zacchia che tra i vari problemi che ha, oltre a occuparsi del padre di Adam, ma è in qualche modo un po' oppressa da un fratello integralista islamico ma che predica bene ma razzola malissimo perché poi a sua volta è uno spacciatore di droga e entrerà in orbita proprio di collisione con Adam. Vi leggo questa paginetta Torna a sorvegliare la sua porzione di pista. È pieno di ragazze, gambe e tacchi che percuotono il pavimento psichedelico. Adam ha sete. Al bar stasera c'è Irina, romena come lui. Hanno avuto anche una storia durata un paio di mesi l'anno scorso. Da allora si trattano con un certo distacco. In ogni caso non gli piace farsi vedere che beve mentre lavora. Si vanta del suo rigore. Stessa cosa quando fa l'esattore. All'improvviso gli sembra discorgere un viso familiare in mezzo alla folla. Ci mette un po' a riconoscere nella brunetta, stretta in un tubino rossofuoco, Zacchia. Adam si sposta di un paio di metri e si mette al riparo di una colonna. Sì, è proprio Zacchia, in una versione molto diversa da quella cui lui è abituato. La ragazza si muove come una baccante, al ritmo di un brano di Paul Hockenfeld. I capelli neri che in genere porta raccolti adesso le scendono sulle spalle, bellissimi e disordinati. Adam non smetterebbe mai di guardarla e almeno una metà di maschi presenti sulla pista ha l'aria di pensarla come lui. Per quanto cerchi di concentrarsi su altre zone della sala, lo sguardo torna sempre sulla ragazza. Sensazione di fastidio quando qualcuno si avvicina per attaccare discorso. Sarà venuta sola? Il corpo di Zacchia è sbalzato, netto, in mezzo alle luci dei neon, come un fascio di raggi futurista. Prima la bella destratrice di cani, adesso Zacchia travestita da fan fatal. Adam è eccitato e nulla lo trattiene dal farsi avanti. Si racconta che non vuole rimorchiare nessuna con Irina nelle vicinanze. In quell'istante Zacchia si volta, il ritmo della sua danza rallenta fino a sganciarsi del tutto dalle cadenze percussive della musica. Se il frastuono non coprisse ogni rumore, Adam penserebbe che Zacchia abbia sentito pronunciare il proprio nome. La ragazza passa attraverso due ballerini, dribbla all'assalto di un tizio che le saltella intorno senza speranza da almeno un quarto d'ora. In poche e rapide falcate abbandona la pista, raggiunge un tavolo dove, ad attenderla, ci sono due tizi sulla trentina. Adam li conosce. Albanesi, spacciatori, lenoni, Eddie e Rubin. Eddie è un tipo magro dall'aria nervosa, frequentatore di palestre di Thai Box, lunghi capelli biondi che gli coprono le spalle. Il naso bianco. Rubin ha lo stesso problema e molti capelli in meno. In più in patria è stata una promessa della nazionale giovanile di calcio, ma qualcosa deve essere andato storto. Tipi riservati, con una clientela altrettanto riservata. Vederli interagire con Zacchia getta Adam giù da tutte le nuvole possibili. Zacchia si siede al tavolo con loro, Eddie le bacia la mano, Rubin la stringe e la bacia sulle guance. Risate, smancerie. Zacchia beve dal bicchiere di Eddie. Eddie si tocca al naso, con insistenza. Rubin fa lo stesso. Poi il ritmo delle risate aumenta. Il divertimento cresce. Eddie si alza e prende Zacchia per mano. I due vengono inghiottiti dalla folla. Adam dietro di loro. Il tempo di scrollarsi di dosso un paio di ubriachi ed ecco Eddie che punta deciso verso i bagni degli uomini. L'ultima cosa che Adam riesce a vedere prima che la porta si chiuda è la gamba velata di nero di Zacchia. Forse, pensa Adam, dovrei farmi i cazzi miei. Ma è un pensiero del tutto inutile perché sta già spingendo la porta. Il bagno è vuoto, eccezion fatta per un tale che pisce a un orinatoio verticale. Adam sente la risata cristallina di Zacchia. Le sue scarpe col tacco spuntano dalla porta, appaiata alle Nike di Eddie. Adam entra nel personaggio. Spalanca la porta con un calcio. Eddie è spalmato su Zacchia, ha una striscia sul dorso della mano e cerca di fargliela pippare. Una mano è agganciata al seno di lei. E tu che cazzo vuoi? Sibila l'albanese. Adam lo afferra per la chioma. Sa che Eddie è un buon picchiatore quindi decide di neutralizzarlo il più in fretta possibile. Con un unico movimento fluido lo fa atterrare col muso sul bordo della tazza del cesso. Un rumore orribile. Gli incisivi di Eddie vanno in pezzi. Zacchia urla. Eddie, narcotizzato dal dolore e dalla coca, non si è reso conto di cosa sia successo. Adam lo solleve e gli dà un pugno secco sulla gola. Eddie va al tappeto compiendo sforzi disumani per riprendere a respirare. Sputa sangue, denti e brandelli di gengiva. Adam conclude con un calcio sulla nuca e Eddie precipita nel mondo dei sogni. Adam trascina Zacchia fuori dal bagno. Lei trema. Sono di nuovo nella bolgia. Sembrano un padre e una bambina disubbidiente. Zacchia gli grida qualcosa che Adam non capisce. Passano davanti a Rubin che li guarda con gli occhi fuori dalle orbite come il lupo nei cartoon di Tex Avery. E questo era quanto.